... Ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Catalan TV. Sono state avviate questa mattina all'interno del complesso sportivo Mariotti le attività del nuovo centro vaccinale di Alghero. Le somministrazioni del vaccino anti-covid-19 sono iniziate alle 10.30. Il centro sarà aperto da lunedì al sabato dalle 9 alle 19, la domenica dalle 9 alle 13. L'ingresso è in Viale Aldomoro, il centro vaccinale dotato di 4 punti dedicati all'accettazione degli utenti e di altrettanti dedicati all'anamnesi dei pazienti, la valutazione da parte di un medico sull'idoneità al vaccino. Le postazioni vaccinali per la somministrazione del vaccino anti-covid-19 sono 32 e saranno attivate progressivamente con l'aumentare degli utenti contattati. All'interno del complesso sportivo Mariotti sono stati allestiti due locali infermeria, una sala d'attese e un'area per l'osservazione post-vaccinale. Prima di accedere al centro vaccinale tutti gli utenti vengono sottoposti a un pre-triage attraverso la misurazione della temperatura corporea. Con l'inaugurazione del nuovo centro vaccinale la campagna lascia dunque i locali del servizio trasfusionale dell'ospedale civile di Alghero. Chi dovrà ricevere la somministrazione della seconda dose dovrà recarsi presso il nuovo hub istituito appunto nel complesso sportivo Mariotti. E questa mattina siamo andati anche noi per l'apertura dell'hub vaccinale. Presente è naturalmente il sindaco Conoci con l'aggiunta quasi al completo. Lo abbiamo intervistato con il presidente del Consiglio regionale Michele Paes e il direttore del presidio ospedaliero Alghero-Ozzieri, il dottor Gioacchino Greco. Si vuole accelerare con la campagna vaccinale. Presidente Paes va in quest'ottica all'apertura del hub vaccinale ad Alghero. Sì, era fondamentale che aprisse anche l'hub vaccinale di Alghero che va ad affiancare quello della promocamera di Sassere a cui si aggiungerà anche quello di Ozzieri. La consapevolezza è che solo accelerando sulla campagna vaccinale si potrà uscire da questa situazione pandemica. Un ringraziamento particolare, doveroso a tutti gli operatori sanitari impegnati in questa grande operazione, all'amministrazione comunale che ha consentito il raggiungimento di questo obiettivo e al generosissimo mondo del volontariato che sta consentendo che tutte le operazioni si svolgano al meglio. Sindaco, si vuole uscire da questa emergenza sanitaria. Oggi l'apertura del hub vaccinale ad Alghero è una giornata importante, possiamo dire. Diciamo che è un orgoglio perché l'hub vaccinale ad Alghero non era previsto. È dovuto alla ferma determinazione dell'amministrazione comunale da una parte e dei nostri operatori sanitari dall'altra, con il concorso di tanti volontari, un impegno straordinario dei nostri collaboratori comunali, davvero un orgoglio per la nostra città, anche perché quest'hub non è un hub che servirà solo alla nostra città, ma tutto il territorio, quindi tutto il distretto. E quindi Alghero ancora una volta si mette a disposizione del territorio con una prova davvero straordinaria perché il lavoro che c'è dietro questa organizzazione è frutto dell'impegno, della costanza, della passione e della abnegazione di tanti. Dottor Greco, una giornata importante per la sanità del territorio? Sì, è una giornata importantissima, finalmente oggi siamo riusciti ad aprire il nostro hub. Contiamo di fare circa 350 persone, uno stress test importante che ci dà idea di quelli che possono essere i flussi e la loro gestione. Contiamo di arrivare a circa 1200-1400 vaccinazioni al giorno, mantenendo sempre una corretta gestione di tutte le attività. Vediamo anche i dati dell'ultimo bollettino e del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. La Sardegna è tra le 11 regioni nei quali l'RT è sopra l'1 per l'esattezza 1,18 a livello nazionale e invece l'indice è sceso a 0,98. Nel periodo 22-28 marzo il numero dei contagi settimanali da Covid è passato a 1198, era 794 nel rilevamento precedente e ha fatto schizzare a 74,8 l'indice per 100.000 abitanti. Secondo l'ultimo monitoraggio di Agenasi invece è aumentata dell'1 per cento, arrivando al 15 per cento l'occupazione di posti letto Covid nei reparti di medicina, mentre resta stabile al 16 per cento la pressione sulle intensive. Vediamo anche l'ultimo bollettino dell'unità di crisi regionale con 473 nuovi casi a fronte di 6.629 teste, quindi un tasso di positività di oltre il 7 per cento, due i decessi, mentre sul fronte ospedaliero come detto un numero in aumento, 8 i pazienti in più ricoverati i reparti ordinari, ora sono 244, mentre sono 35 quelle in terapia intensiva, 1 in più. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.752, importante però anche il numero dei guariti che ieri sono stati 274. Passiamo alla politica locale, via libera del Consiglio Comunale alla modifica del regolamento delle entrate comunali, accolte alcune proposte e arrivate da alcuni gruppi di maggioranza su tutti Forza Italia, ma anche dall'opposizione. Aumentano fino a 120 le rate, anziché le attuali 72 per le somme dovute sui tributi comunali in linea con quanto anche l'Agenzia delle riscossioni sta facendo, accordando peraltro il beneficio della ratizzazione anche a soggetti precedentemente decaduti dall'agevolazione. Inoltre, garanzia fideiussoria non necessaria per chi chiede la ratizzazione per i casi di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà. La dilazione concessa può essere prorogata per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori 48 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Per gli importi del debito a partire dai 20.000 euro, la proroga della dilazione potrà essere concessa previa presentazione di un piano di rientro redato da un professionista corredato da garanzia. E ancora, nessuna erogazione di sanzioni nel caso di accertamento tributario in cui c'è incertezza sull'applicazione tributaria. In questo caso, ovvero di applicazione controversa, viene pagato solo l'importo dell'imposta. Modifica anche per la definizione dei versamenti in caso di dilazione dei pagamenti, in caso di mancato pagamento dopo sollecito, la decadenza dei benefici avviene dopo sei rate, anche non consecutive, al posto di due e nell'arco di 12 mesi al posto di sei. La pandemia ha acuito le difficoltà economiche. Il regolamento così deliberato è frutto di proposte da parte dei gruppi di maggioranza, Forza Italia in primis, poi Gruppo Misto, Fratelli d'Italia, Udcino, Iconalghero e dei gruppi di opposizione che hanno integrato la proposta della Giunta. Abbiamo fatto quanto possibile per andare incontro alle imprese e alle famiglie in questo momento di grande difficoltà, tenendo comunque presente il dovere di tenere in equilibrio i conti pubblici e le erogazioni dei servizi ai cittadini. C'è stata una grande unità di intenti per il raggiungimento di questo obiettivo che va sicuramente evidenziata e che dimostra quanto sia di estrema urgenza intervenire in questo momento di difficoltà, spiega il sindaco Mario Conoci. L'obiettivo era quello di dare il massimo per intervenire con forza attraverso misure di contenimento della crisi, con la più ampia condivisione, sottolinea invece l'assessore alle finanze Giovanna Caria. Con questo intervento abbiamo messo tutti nelle condizioni di pagare le tasse, in correlazione al momento, cercando di tutelare imprese e fasce più deboli della popolazione, salvaguardando i conti pubblici. Consiglieri di opposizione, sia il centro-sinistra che il 5 Stelle, che hanno evidenziato invece il contributo del 31 marzo per approvare la mozione presentata da Forza Italia e poi il gran lavoro che ha portato alla presentazione di alcuni emendamenti. L'opposizione, sottolineano per Alghero, Futuro Comune, PD, Sinistra in Comune, 5 Stelle, ha così saputo distinguere la fase di crisi politica in atto, che ha sancito il completo ritorno di Forza Italia alla guida della maggioranza, con il sindaco Sardo Lighista e i partiti minori costritti a inseguire, dal contenuto delle misure in discussione. Ci auguriamo che per il bene della città ora le forze di maggioranza trovino sintesi anche sulle caselle da riempire e sui partiti da far rappresentare in giunta, perché non è più sopportabile la situazione di Stasi che dura da troppo tempo. Sentiamo allora proprio il commento del sindaco dopo il via libera le modifiche al regolamento delle entrate comunali e del capogruppo di Forza Italia, Annunzio Camerada. Entrambi hanno sottolineato l'importanza di dare risposte a cittadini e imprese in questo momento particolarmente delicato. Sindaco, via libera le modifiche al regolamento delle entrate comunali, una boccata d'ossigeno per imprese e famiglie? L'obiettivo era quello di accelerare i tempi per dare una boccata d'ossigeno, uno strumento in più per affrontare il momento di difficoltà economica con maggior tempo davanti, con minori impegni per le imprese e per le famiglie. Ci siamo riusciti, la giunta ha fatto una proposta, il Consiglio nel suo ruolo l'ha migliorata, l'abbiamo all'interno del Consiglio discussa anche con toni molto spesso accesi, però ci sta. L'importante poi alla fine è arrivare al risultato. Mi fa piacere che ci sia stata alla fine da parte del Consiglio una presa di coscienza del fatto che fosse necessario dare un segnale importante, così come è successo l'anno scorso quando approvammo prima del tempo il bilancio sempre per affrontare il problema economico della pandemia, anche quest'anno su questo regolamento che deve contemperare da una parte l'esigenza di garantire le entrate comunali perché le imposte vanno comunque pagate, ma con tempi che consentono ai cittadini di rispettare le scadenze, abbiamo adempiuto ad un compito che va nei confronti della città, che va incontro ai bisogni dei cittadini, delle imprese, insomma una cosa importante, frutto del lavoro di tutto il Consiglio comunale. La politica si fa tutti insieme, vanno bene anche le iniziative dei singoli partiti, però poi alla fine da solo nessuno è autosufficiente, quindi una maggioranza funziona se rimane compatta, rimane coesa e se questo accade i risultati arrivano. Vi libera le modifiche al regolamento delle entrate comunali, Forza Italia che era parita da una posizione critica, è arrivata poi una mozione con diverse proposte importanti a favore di famiglie e imprese, c'è stata una discussione anche a Aspra in Consiglio comunale, sembrava tutto naufragato, possiamo dire così, poi invece le proposte di fatto sono state approvate, un grande risultato politico, possiamo dire? Sì, un grande risultato politico, ma soprattutto un grande risultato per i cittadini e per le imprese di Alghero. La proposta che veniva dagli uffici, dall'amministrazione, era a nostro avviso troppo debole, l'abbiamo definita un panicello caldo. Oggi abbiamo un piumone caldo avvolgente, i cittadini hanno veramente la possibilità di poter pagare le tasse, abbiamo possibilità, ciò che ho detto ieri in Consiglio è stato che noi non dobbiamo far morire la mucca, se non mettiamo i cittadini nelle condizioni di poter pagare in un momento di difficoltà come questo, quindi con ratizzazioni, con prolungamento, con non dover offrire garanzie soprattutto per le imprese, una fiducia bancaria oggi è impossibile da ottenere, avremmo rischiato di ammazzare la mucca che non avrebbe dato più latte. Quindi oggi diciamo che abbiamo creato le condizioni perché i tributi ad Alghero possano essere pagati, devono essere pagati perché senza il pagamento dei tributi non vengono assicurati i servizi, quindi l'appello che faccio con l'amministrazione è quello di pagarli i tributi, con le comodità diciamo che oggi possono essere utilizzate, le imprese dovranno prima pagare gli affitti, dovranno pagare gli stipendi, che si ricordino anche delle tasse, con comodità, con un po' più di comodità però che tutti paghino le tasse. L'amministrazione di Alghero ha fatto un atto coraggioso, come ha detto lei direttore, sembrava che ci fosse una linea più rigida, però tutto il Consiglio Comunale si è espresso in maniera favorevole, la stensione delle opposizioni, la grande collaborazione delle opposizioni, ha fatto sì che il Consiglio Unanime andasse verso questa direzione. Credo che possa essere un esempio, che Alghero possa essere esempio anche per le altre amministrazioni locali che oggi devono a tutti i costi cercare di favorire quella che è la rinascita, il rilancio e la difesa delle imprese e dei cittadini. Ora ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. In apertura di seconda parte la cronaca perché nel pomeriggio di giovedì i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alghero hanno arrestato in flagranza di reato un algherese di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine anche per reati inerenti di stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso con circa 14 grammi di cocaina e 1.400 euro in contanti. In base al racconto dei militari, l'uomo e la persona che si trovava con lui sono stati sottoposti ad un controllo, durante il quale hanno mostrato in sofferenza per essere stati fermati dai carabinieri. Dopo aver mostrato i documenti, l'uomo si è dato alla fuga ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai militari. Il 48enne stava nascondendo in bocca dietro la propria mascherina FPP2 di colore nero, una bustina per la conservazione degli alimenti contenente cocaina. Proprio durante le fasi concitate della fuga, l'uomo ha danneggiato la busta, facendo quindi fuoriuscire della sostanza stupefacente nella sua bocca. Ed ecco perché è stato immediato il trasporto dello stesso presso il pronto soccorso che lo ha successivamente dimesso senza alcun giorno di ricovero. L'uomo è stato arrestato e condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari. Ieri mattina il Tribunale di Sassari ha convalidato l'arresto disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Alghero con permanenza domiciliare nelle ore serali. Il rito del venerdì santo, il dascravamento andato in onda anche in diretta sulla nostra emittente CatalanTV è stato davvero molto seguito dalla popolazione che vista la pandemia e le restrizioni ad essa connesse non hanno potuto partecipare come gli anni precedenti in presenza seguendo le processioni e i vari altri riti della nostra settimana santa che si sono fermate e che vanta la settimana santa ovviamente tradizione di secoli. L'atmosfera comunque nella cattedrale di Santa Maria era quella di sempre con il San Cristus disceso dalla croce dei confratelli della misericordia che lo hanno posto poi nel suo dorato Brassol. Il momento forse più emozionante di queste giornate che precedono la Pasqua che per il secondo anno consecutivo è caratterizzata come detto da regole precise. Oggi sabato santo alle 19 la solenne veglia pasquale e poi la benedizione dell'acqua battesimale. Domani 4 aprile giorno di Pasqua sarà invece il Vescovo a celebrare le 10.30 la Santa Messa in Cattedrale. Non si svolgerà ovviamente l'incontro tra Gesù Risorto e la Madonna sui bastioni. E come detto per il secondo anno consecutivo vivremo una Pasqua con le restrizioni mentre solo due anni fa questo era il periodo che dava il via alla stagione turistica. Una Pasqua la seconda con le restrizioni dettate dalla pandemia. Il Covid-19 si sta dimostrando tenace e tutto il mondo lotta per debellarlo. Momenti difficili della battaglia contro questo virus che nell'ultimo periodo ha visto un aumento dei casi e il circolare delle varianti che certo non hanno agevolato il calo di numeri e ricoveri costringendoci ad allungare le restrizioni. Ma quando arrivano i giorni di festa è il momento che stiamo vivendo e tutte le sue conseguenze si acquiscono. Pasqua ha sempre rappresentato l'inizio della stagione con i turisti che cominciavano a popolare la riviera del Corallo e la Sardegna tutta che visto il clima bene si presta alle vacanze pasquali. Ma in questi ultimi due anni, aprile è un mese dove stiamo osservando regole per evitare che il virus continui a correre come sta facendo e a sacrificare dunque i mesi a venire. Da oggi staremo in zona rossa, sì agli spostamenti verso altre abitazioni, ma solo una volta al giorno e negli orari permessi, ovvero tra le 15 e le 22. Questo spostamento può avvenire solo per due adulti accompagnati dai figli al di sotto dei 14 anni e dalle persone con disabilità e non autosufficienti conviventi. Con i ristoranti chiusi che potranno lavorare solo da sport o in base alle regole, si andrà a far visita a qualche parente, il tutto sperando che questa sia davvero l'ultima Pasqua da vivere in questo modo. Nel servizio appena andato in onda c'era un errore, ovviamente l'orario è dalle 5 alle 22, non dalle 15 alle 22 come erroneamente detto. Il telegiornale termina qui, non mi resta che augurare da parte mia, da parte di tutta la redazione della proprietà di Catalan TV, una buona Pasqua a tutti voi, l'informazione della nostra emittente ritornerà puntuale martedì alle 13.30. Allora auguri, grazie per averci seguito e arrivederci.